I cittadini di Pieve campioni nel donare il 5 per mille al proprio comune. Dai primi dati raccolti sono circa 14.000 euro i fondi donati al comune Cadorino dai residenti nel territorio. Una cifra che vede Pieve, fatte le adeguate proporzioni in base agli abitanti, al top nella provincia e dietro solo alle realtà più grandi. Il comune di Pieve di Cadorino è particolarmente orgoglioso nel snocciolare i dati che ogni anno arrivano per quanto riguarda il 5 per mille. Orgoglioso perché è un segnale importante dell'attenzione che i cittadini di Pieve hanno per la loro municipalità. Si tratta di un gesto generoso che non costa tanto al cittadino. Al momento in cui fa la denuncia di redditi, mettere la crocetta da una parte piuttosto che da un'altra cambia poco. Però l'attenzione verso proprio quel nome, quella destinazione ha un significato importantissimo. Significa che il cittadino riconosce nel proprio municipio, nel proprio comune, la possibilità di fare un investimento utile. L'investimento appunto del 5 per mille. I fondi a disposizione dell'amministrazione comunale grazie al 5 per mille saranno destinati, come previsto, al sociale. Di questi soldi noi cercheremo anche in questa occasione di indirizzarli verso il sociale. Cercheremo, dico, perché poi dobbiamo trovare i progetti all'interno dei quali inserirli. Adesso, in questo momento, in questi ultimi anni, non ci sono state difficoltà di scelta. Perché voi per la pandemia, voi per altri problemi specifici di alcune famiglie, adesso voi per i profughi che arrivano dall'Ucraina, si tratta soltanto di decidere come assegnarli i soldi. Ma la destinazione è in questa direzione.